Ora con lo scooter elettrico Ascol ci potete fare anche i 70 km orari si chiama ES3, l'avevamo visto ad EICMA vi spiego come va, come è fatto, qual è la sua tecnologia e qual è il suo prezzo i 70 km all'ora non sono il dato che forse bisogna considerare come principale di questo scooter ma è come ci si arriva anche perché a 70 km ci arrivate dopo un lungo rettilineo ma in realtà il motore è completamente nuovo e lo scooter reagisce in modo davvero diverso rispetto ai precedenti c'è più potenza, è più reattivo, è più veloce nell'accelerazione e soprattutto nelle stesse dimensioni del vecchio powertrain arriva un motore riprogettato, motore sincrono, a magnete interrerare con plasto neodimio al posto della plasto ferrite dei precedenti c'è anche la ventilazione forzata che è riuscita a risolvere il problema del riscaldamento infatti per i motori elettrici la potenza si calcola non al picco, a freddo ma dopo mezz'ora di utilizzo proprio per tenere in considerazione la variabile del riscaldamento 130 Nm di coppia per questo motore 88% di efficienza totale considerando quindi l'intero scooter e i nuovi pacchi batterie Ascol ha infatti scelto di mantenere la stessa autonomia dei S1 e S2 nonostante la rinnovata potenza, 2.8 kilowatt su due pacchi quindi ognuno da 1.4 kilowatt ora stesse dimensioni, densità di carica maggiore grazie alla nuova cella che è da 3.6 volte 2.9 ampere ora Ascol assembra le sue batterie in casa a partire dalle celle che sono l'unica parte acquistata da un fornitore esterno poi tutto il resto, soprattutto il lavoro di test che è effettuato per ogni singola cella in modo da non compromettere poi il prodotto finale è fatto dal produttore stesso nuovo il pacco batterie programmabile in 3 step 100% per chi vuole il massimo dell'autonomia in questo caso ci vogliono 9 ore quindi lasciate lo scooter in box o vi portate i due pacchi batterie e il caricatore a casa perché sono estraibili 90% per massimizzare la vita delle celle e 50% per i periodi di stoccaggio in modo da non andare poi a stressare la batteria quando noi lasciamo lo scooter in utilizzato per diversi mesi nuovo anche l'anteriore a led che ci va a portare quindi un impianto completo full led se vogliamo definirlo così anteriore, posteriore e frecce questo anche per migliorare sia l'illuminazione che l'efficienza mentre le modalità di guida sono tre la prima è quella full power la seconda è quella intermedia la terza è quella più conservativa che comunque ci consente di raggiungere i 45 km orari di velocità massima poi ci sono due livelli di rigenerazione dell'energia il primo è attivo solo in frenata il secondo invece ci dà un freno motore che rigenera quindi l'energia per esempio sfruttando le discese come va quindi questo S3? durante la prova si è notata tantissimo la differenza ho apprezzato davvero le qualità di questo motore in accelerazione in termini di velocità di punta e soprattutto in termini di reattività la frenata combinata complice la prova sul bagnato si è dimostrata ottima innanzitutto perché non c'è l'ABS? beh perché l'ABS aggiunge peso, aggiunge costo aggiunge un assorbimento che anche se minimo va a incidere sull'autonomia la frenata combinata per come l'ha sviluppata Ascol cioè privilegiando il bloccaggio del posteriore quindi privilegiando una percentuale di frenata maggiore sul posteriore si è però rivelata ottima anche sul bagnato sulla pioggia infatti lo scooter tende a perdere aderenza per via del bloccaggio sul posteriore ma si tratta davvero di una perdita minima e soprattutto complici di 85 kg incluse le batterie di questo modello chiunque riuscirà a controllarla poi chi vuole frenare invece in maniera un po' più motociclistica ha comunque a disposizione la leva destra che va ad agire solamente sull'anteriore ottima la maneggevolezza le ruote da 16 hanno consentito anche di affrontare meglio l'asperità del percorso che simulava un po' gli ostacoli cittadini facile, davvero versatile raggio di sterzo ridotto chiunque potrà utilizzarlo e pratico il display che ci mostra poi le diverse modalità di guida e soprattutto le diverse autonomie a seconda della modalità di guida che noi andiamo a selezionare fra le tre disponibili tirando le somme ottimo lavoro per questo S3 che si può definire lo scooter che va a consacrare Ascol nel mondo della mobilità urbana elettrica un prodotto davvero interessante ci sono i due posti c'è una potenza in grado di convincerci a lasciare a casa il centro termico e ad affidarci a questo 100 tra virgolette elettrico il prezzo è stato mantenuto basso e concorrenziale apposta in modo da riuscire a convincere il mercato 3490 euro a partire da giugno prime impressioni sicuramente positive poi l'unica riserva quella sulla frenata che era ancora un po' da rodare considerando che gli scooter erano davvero a chilometro zero vedremo di scioglierla in fase di recensione completa magari rimettendo le mani su questo S3 più avanti se avete domande fatemelo sapere nei commenti anche per qualche dettaglio tecnico in più iscrivetevi al canale e soprattutto ricordatevi la benedetta campanella perché senza quella youtube non vi manda le notifiche rischiate di perdervi i nuovi video e io sarò molto triste Luigi Melita per HD Motori